Sindaco, quindi confermati i vaccini a Valgoglio? Sì, tutto confermato. Domani, sabato 27, inizieranno dalle ore 9, termineranno alle ore 20. I vaccini che sono stati proposti sono per tutta la popolazione che rientra dai 18 ai 79 anni. Abbiamo avuto purtroppo un esito un po' deludente, parte mia, che è circa il 60% della popolazione, anche se va rispettato comunque la volontà delle persone nel fare la scelta se vaccinarsi o no. Il lavoro è stato enorme, grazie. Io devo ringraziare comunque ATS, AST e Regione Lombardia, oltre che l'ufficio d'ambito del nostro territorio, per la grandissima collaborazione che ci ha dato per raggiungere questo obiettivo, prima con i tamponi e domani con i vaccini. Diciamo che tutto è pronto. Già eravamo pronti settimana scorsa, dopo questa interruzione dell'AstraZeneca, su questa pubblicità negativa fatta, abbiamo perso comunque una settimana, però siamo pronti a ripartire. Quindi verranno vaccinati circa 250 persone di questa età, che vanno dai 18 ai 79 anni. Ecco, come si svolgeranno le vaccinazioni? Perché c'è anche una novità. Sì, allora abbiamo convocato le persone, due persone ogni cinque minuti, quindi arriveranno già con dei moduli compilati, soprattutto su eventuali patologie e quindi domande sulle loro salute, che daranno al medico dove valuterà la possibilità o meno di fare il vaccino. Esegueranno poi successivamente questa vaccinazione, dovranno rimanere circa un quarto d'ora in osservazione, per poi essere liberi a tornare alla propria abitazione. La novità molto importante che abbiamo avuto la conferma ieri è che a Valgoglio domani ci sarà il primo esperimento che Regione Lombardia, assieme all'AST di Bergamo, vogliono fare sul territorio. Questo esperimento consiste di mettere a disposizione un camper con un personale, un'equipmetica specifica, dove verranno su questi territori disagiati, tra cui comunque il territorio di Valgoglio, vaccineranno gli over 80 e anche le persone che hanno determinate patologie, ma oltretutto questa unità mobile poi raggiungerà anche le persone allettate che non possono raggiungere i punti vaccinali. È una straordinaria iniziativa, io sono orgoglioso che possa essere così, sperimentato sul nostro territorio e speriamo poi che venga proposta anche sul territorio oltre al nostro comune nel più breve tempo possibile, però questo sarà nei tempi di ATS e Regione Lombardia che verificheranno la funzionalità. Dove verranno effettuate le vaccinazioni? Le vaccinazioni qui a Valgoglio per quelli che hanno l'età dai 18 ai 79 anni, verrà fatto quindi l'astrazenica e vengono effettuate qui presso la palestra di Valgoglio, mentre invece per gli over 80, le persone che hanno già qualche patologia e gli allettati, attraverso questo esperimento dall'unità mobile di vaccinazione, viene fatto il Moderna. L'ambulatorio, abbiamo messo loro a disposizione anche l'ambulatorio medico che si trova sotto il palazzo municipale per espletare tutte le operazioni burocratiche del caso.